e ciao a tutti amici io sono franco versa quanti tutorial dovrei farvi tantissimi pensate che ne ho in programma uno dove vi farò vedere come animare i vostri layer le scritte immagini quello che desiderate senza usare i keyframe però siccome è un po particolare oggi invece vi faccio vedere questa cosa simpatica di come possiamo prendere ispirazione da un qualcosa e riportarcelo in fusion cercare di ricostruirlo beh non tutto potremo ricostruire però queste cose semplici così ma simpatiche e vi faccio vedere io come procedere e direte perché hai qualcosa che non sembra fusion beh mi trovo in canvas canvas è un sito che veramente ci dà tante possibilità per costruire i nostri template e le nostre grafiche eccetera non sono sponsorizzato da canva lo dico subito vedete infatti in alto che ancora sto usando la versione free in prova per 30 giorni si può usare la versione pro però è carino anche andare in giro e testare tutte queste cose qui e oggi mi sono imbattuto in una delle tante voci di canvas in test maker cos'è non è altro che una parte dove possiamo creare questi font typography come vedete sono già pronti andiamo in cerca di qualcosa che ci piaccia testi anche metallici testi con delle sfumature un po anni 80 guardate che carino anche questo nucleare eccetera e io oggi più ho scelto questo font sofia e sono andato a scrivere franco tutorial comunque facilissimo basta scrivere qui ciò che ci interessa anche provato è indifferente magari è carino avere un carattere alto e basso e poi scegliamo se centrato non centrato se facciamo più testo possiamo anche allineare e avere il letter spazio tra le lettere e poi lo andiamo ad aggiungere ecco qua aggiunta la nostra scritta bene e con questo potremo anche già salvarci il nostro fonte e utilizzarlo da altre parti ma il tutorial di oggi non è questo il tutorial di oggi è abbiamo visto com'è carina questa scritta ma è possibile fare una scritta così in fusion quindi da qua cosa copieremo beh il font ho scoperto che sofia è un font di google allora seguitemi andiamo sul browser e semplicemente scrivendo sul motore di ricerca sofia font come vedete è un font di google probabilmente la canvas utilizza font che siano liberi e sappiate così una curiosità che la canvas ha acquistato anche la serie con affinity foto finiti design in tutto il pacchetto per cui chissà in futuro cosa succederà però bando alle ciance andiamo a scaricarci da google questo font quindi clicchiamo sul link e come vedete è proprio lo stesso molto carino quindi andremo a fare un preview del fondo quello che desideriamo lo facciamo guardate get font vedete download tutto molto semplice ecco qua sofia zip è il file io lo salvo sui documenti infatti ce l'avevo già si apre la cartella e andiamo semplicemente a cliccare due volte e installare questo per quanto riguarda windows credo che la procedura in mac sia più o meno la stessa prima di uscire da canva ricordatevi proprio di scaricare la vostra presentazione quindi andiamo su condividi e facciamo scarica meglio di tutto se scaricate un jpeg un png facciamo un jpeg lo scarichiamo la dimensione non ha tanta importanza e lo salviamo ad esempio sul desktop eccolo qua e poi adesso vedremo a cosa ci serve andiamo ad aprire da vinci resolve e andiamo a importare il file che abbiamo inserito nel desktop nella biblioteca clicchiamo tasto destro e facciamo nuova composizione fusion lasciate pure tutto così inseriamo la composizione in timeline e spostiamoci in fusion sistemiamoci un po in media out a destra cliccando la rotellina del mouse e andando in biblioteca ci trasciniamo giù il nostro media chiudiamo pure la biblioteca e ora clicchiamo sul nodo del media e lo visualizziamo così avremo un riferimento di ciò che vogliamo andare a copiare beh prima cosa facciamo subito una prova per vedere se il font si è installato ricordatevi che se avete da vinci acceso quando installate un font dovete spegnere e riaccendere il programma perché le cose come i font eccetera vengono viste all'inizio l'inizializzazione del programma quindi prendiamo un testo da qui visualizziamo da questa parte premendo 2 scriviamo magari proprio la scritta della stessa cosa così abbiamo un riferimento molto preciso scriviamo franco tutorial facciamolo magari un pochino più grande e andiamo subito in cerca del font e quindi su fonte andiamo in cerca del font sofia quindi battola e se potremmo c'è una ricerca totale e una volta sulle s dobbiamo cercarci non è possibile battere la parola intera per ricercarlo ecco qua sofia lo clicchiamo e come vedete è proprio uguale è lo stesso unica cosa che differenzia adesso saranno i colori e quant'altro bene adesso come facciamo a rifare che il font sia proprio uguale identico beh la prima cosa incominciamo con i colori per quello abbiamo riferimento qua perché non dovremo nemmeno fare questa fatica ovviamente un indomani a noi non interesserà avere questa scritta potremmo fare i colori che desideriamo però abbiamo detto che vogliamo risimulare con fusion una cosa fatta altrove bene andiamo quindi sul testo la color prendiamo la pipetta e andiamo a selezionare questo colore in centro e vedete che ora franco tutorial è proprio uguale a questa scritta qui un'altra cosa che dobbiamo fare è inserire un bordo bianco per i bordi dobbiamo spostarci su shading e qui andiamo attivare due e facciamo enable come vedete abbiamo un bel bordo rosso bene lo allarghiamo un pochino e ovviamente qui clicchiamo e andiamo a selezionare un bel bordo bianco adesso poi vedremo la dimensione come facciamo a fare un altro bordo questo bordo qui blu andiamo sul terzo elemento lo attiviamo ma il terzo elemento è un ombra come vedete quindi invece lo trasformiamo cliccando qui in un altro bordo il bordo deve essere centrato quindi deve avere un offset a zero andiamo a impostare 0 e 0 qui in maniera che sia in centro buttiamo giù tutto softness perché l'ombra aveva un blu softness e alziamo molto il trickness e quindi come vedete ora sta comparendo il bordo bordo che ora andremo a prendere qui ricordatevi qua premendo control e rotellina del mouse possiamo entrare molto dentro e quindi se abbiamo bisogno di selezionare bene colore andremo molto meglio infatti ora prendiamo la pipetta la portiamo qui e selezioniamo il colore del bordo guardate come la nostra scritta sta assomigliando molto a quella che è di qua forse l'unica cosa vedo che sul 2 ci deve essere un po un alone perché il nostro font è un po più luminoso ma neanche ecco buttiamo giù tutto il glow a zero forse era solo un'impressione perché era piccolino adesso in teoria continuando con gli altri elementi potremo costruire anche quello sotto però ci risulterebbe un po più difficoltoso cioè adesso sul 4 dovremo attivare un'ombra spostare questa scritta così però vedete che risulta bucata non non è tanto bella allora cosa facciamo procediamo in un'altra maniera facciamo un trucco praticamente creiamo questo font dall'unione di di questo più altri due però siccome abbiamo bisogno poi di scrivere un colpo solo non possiamo andare a cambiare tre template per scrivere un nostro titolo vogliamo scrivere una sola volta il titolo e che in automatico se c'è una programmazione di nodi lo prenda su tutti quindi andiamo a sfruttare l'istanza che è una copia del dello stesso nodo clicchiamo tasto destro facciamo copia poi andiamo in una zona vuota clicchiamo e facciamo non past normale control v ma contro il shift v o clicchiamo qua past instance l'istanza è un nodo completamente uguale vedete l'ho messo di qua adesso per farvelo vedere e vedete che non c'è nessuna differenza perché è proprio una copia di questo e allora perché l'abbiamo fatto perché da questo ora potremo sganciare dei valori e portarceli manuale quindi andiamo sullo scegli e entrando dentro gli elementi andiamo ad esempio a colorare direttamente mi rimetto i media per averlo di riferimento andiamo a colorare direttamente con il giallo questo colore qui allora scendiamo sul colore però ora non possiamo fare nessuna variazione perché questa si ripercuoterà sul anche sull'altro nodo dobbiamo sganciarla perché sia indipendente per sganciarla andiamo sui colori ogni colore quindi red e facciamo dei stands vedete che non è più verde lo facciamo così anche sul verde e anche sul blu abbiamo sganciato i colori ora se muoviamo questi colori andiamo a visualizzare questo nodo vediamo che stiamo cambiando questo ma se visualizziamo quell'altro non è modificato ritorniamo su questo qua premendo 2 e ora andiamo a copiare i colori del giallo quindi cominciamo dalla faccia e ci spostiamo la pipetta e la facciamo gialla poi ci mettiamo sul secondo andiamo qui facciamo ripetiamo l'operazione sganciamo la distanza su sganciamo dei stands su ogni colore prendiamo la pipetta e lo rifacciamo giallo vedete e questo qua dovrebbe essere già giusto il bordo allora visualizziamo il numero 1 e vedete che però non vediamo la nostra istanza perché perché come posizione in layout si trova sotto proprio il nostro font quindi non facciamo altro che sganciare il centro xy per posizionarci il font più spostato come qua sul center facciamo dei stands automaticamente avremo liberi comando xy ora non vediamo i nodi perché perché non li abbiamo uniti con qualcosa se facciamo così e andiamo i due nodi e andiamo a controllare il merge ecco qua che vedremo il risultato quindi torniamo sull'istanza e spostiamo vedete come era qui il nostro testo dobbiamo trovare un qualcosa che simuli come era qui adesso dobbiamo ripetere l'operazione andiamo di nuovo sull'istanza facciamo copia ci spostiamo e facciamo past instance sarà una terza istanza andiamo unire questi elementi visualizziamo per prima cosa andiamo a sganciarci la posizione questa volta così possiamo vedere subito questo nodo clicchiamo clicchiamo qui su center e facciamo dei stands lo spostiamo giù ecco lo vediamo e lo spostiamo lateralmente eccolo qua poi questo parametro lo andremo a sistemare adesso facciamo la stessa cosa ovviamente con il colore andiamo a sganciarci i tre colori dei stands dei stands e andiamo a prenderci il colore del rosa con la pipetta andiamo a puntare sul rosa stessa cosa dobbiamo fare sul bordo quindi andiamo sul 2 andiamo a togliere da tutti dei stands e andiamo a puntare sul rosa bene adesso dal media out andiamo anche a riavere la stessa sensazione del fondo perché anche il fondo è molto importante quindi andiamo a tirare giù un background mettiamo un media out così nel media out e facciamo il colore bianco di fondo questa programmazione la trasciniamo qui e vedete che ora il nostro carattere è molto molto più simile io ho voluto tenere meno bordo di qua comunque questa si può aggiustare adesso questo media di riferimento possiamo toglierlo però abbiamo ancora una cosa da fare qui come avete io ho giocato con due merge per unire prima due segnali poi tre possiamo giocare invece con un multi merge in maniera da avere un solo nodo che raggruppa tutto e in più con quello anche potremmo spostare ulteriormente i nostri segnali quindi andiamo a rinominare i nostri tre nodi sul primo f2 e scriviamo testo sul secondo f2 scriviamo coppia 1 e sul secondo scriviamo coppia 2 andiamo a prendere un multi merge togliamo questi merge qui che non ci serviranno più e andiamo a inserire qui i nostri nodi allora innanzitutto per questo multi merge serve un background prendiamo un background lo inseriamo e lo mettiamo in trasparenza così non avrà nessun effetto poi il testo premiamo tasto destro lo trasciniamo e lo inseriamo come layer 1 poi prendiamo questo tasto destro lo trasciniamo e lo inseriamo come layer 2 e infine questo lo trasciniamo lo inseriamo come layer 3 infine l'uscita la ricolleghiamo di nuovo al merge vedete c'è un po di pasticcio andiamo sul nostro multi merge e rovesciamo tutto perché vedete questo è l'ordine vero del dei layer quindi questo va in alto qua si possono spostare vedete questo va giù quindi abbiamo testo coppia 1 coppia 2 ed eccolo qua ora da qua possiamo decidere anche un mucchio di cose perché possiamo spostare anche il layer interessato sottolineato in quel momento quindi vedete che anche da qua possiamo ricomporci la nostra scritta su ogni layer potremmo decidere la posizione la dimensione l'angolo gli operatori eccetera eccetera quindi eccolo qua come facciamo con una programmazione così vedete anche abbastanza semplice a modificare il testo il testo va scritto qui dove abbiamo lasciato scritto testo torniamo qui quando qui cambiamo una gita vedete che in un colpo solo ho modificato tutti e tre i layer e ora sarà molto semplice cambiare anche i colori perché con questo potremmo modificare il colore se vogliamo verde per esempio verde scuro poi avremo non so questa che sempre su sul colore possiamo cambiare colore lo vogliamo rosso vedete ecco e così via e possiamo ottenere un questi font multicolor molto simpatici in pochissimo tempo io questa programmazione la metterò a disposizione per gli abbonati scriverò testo sofia così vi ricordate anche il font ovviamente avete tutte le funzioni attive per cui se volete spostare il trekking volete creare delle animazioni il line spacing vedete c'è un minimo ritardo ma anche il brighton è simpaticissimo perché potete creare questa animazione muovendo il brighton e tutti gli altri layer vi seguiranno quindi potete avere dei titoli così molto carini se li volete sopra la vostra immagine e non sul background bianco basterà mettere un background nero e in alfa in maniera che quando siete sulla edit questa parte sarà trasparente dovete sapere che con questa programmazione molto carino perché se noi non vogliamo più usare il font sofia ma vogliamo usare un altro possiamo vedere vedete cambiare in qualsiasi momento anche il font e anche gli altri layer si adattano guardate che simpatico quindi abbiamo fatto una programmazione che si adatta a tantissime cose e spero che mettiate un like a questo video e lo commentiate tanto per darmi maniera anche di crescere e di rispondere alle vostre domande ciao alla prossima iscriviti a questo canale e clicca sulla campanella per essere avvisato quando ci saranno nuovi video apri il programma quanto inizia franco tutorial ti dà le dritte giuste ora è facile diventa un pro dell'editing segui il mio tutorial sarà il migliore franco tutorial il maestro delle ritti diventa un pro dell'editing di ente ti ferma questo ritmo benedito i